Ciao ragazzi, sono pronto a rispondere alle domande sul Crotone e voi quanto conoscete il Rosso Blu? Ciao ragazzi, sono pronto a rispondere alle domande e voi quanto conoscete i giocatori di Crotone? In quale settore giovanile è cresciuto Molina? Atalanta. Nell'Atalanta. Contro chi ha segnato il primo gol in Italia con la maglia del Crotone, Simi? Torino. Andato in Serie A? Lazio. In quale città è nato Crociata? Palermo, San Cipirrello. Lui è di San Cipirrello però Palermo. Palermo. Quale giorno è nato Gomelt? 19. 27. Chi è l'idolo di Ben Ali? Zidane. Zidane. Chi sono i giocatori in rosa che hanno superato le 100 presenze con la maglia del Crotone? Barberis, Kordaz, Alex Kordaz e Andrea Barberis. Mister Stroppa da calciatore ha vestito la maglia del Milan o dell'Inter? del Milan. Milan. Segno zodiacale di Spolli? Ariete, non lo so. Passa, non mi ricordo come si dice. Pisis. In quale stadio hai esordito in Serie A Cuomo? Napoli. San Paolo. Il Crotone. Qual è la nazionalità di Carbò? Sierra Leone. Tranquillo Marco, sarà per la prossima volta. Normale, sei straniero, non è che puoi sapere certe cose. Sierra Leone, lui. Zidane, mi dispiace per te ma la sfida è finita in parità. La sfida è finita in parità.